Non sono stato io, non c'entro niente, sono le parole di Franco Cerfoglio accusato dell'omicidio di Alfredo Sandrini in Alto Lario. L'imputato è stato sentito oggi pomeriggio nella prima udienza in corte d'assise a Como, udienza che si è aperta stamani con l'appello ai giudici togati e a quelli popolari da parte della difesa. Cerfoglio non ha ucciso, era nel posto sbagliato al momento sbagliato, hanno detto i legali Alida Sacchi e Pietro Bassi. La procura invece sembra non avere dubbi alla luce di una serie di elementi, dalle 25 telefonate intercorse tra i due quel giorno, all'appuntamento fissato all'ostello della gioventù di Domaso per saldare un debito di droga, fino alla polvere da sparo rinvenuta sul giubbotto usato da Cerfoglio, senza dimenticare quelle caramelle e fiori di Sambuco trovate sul luogo del delitto e in casa dell'indagato. Quella sera avevamo appuntamento all'ostello ma ho visto due persone con una torcia e ho pensato che fossero carabinieri, così mi sono allontanato e sono salito in barca, ha aggiunto l'imputato. Da quel momento non ho più visto Sandrini, sono stati i militari ad avvisarmi della sua morte il giorno dopo. Ma la ricostruzione dell'accusa, pubblico ministero Mariano Fadda, è diversa. Franco Cerfoglio era stato picchiato più volte, almeno in due occasioni, a colpirlo Sandrini perché non voleva saldare un debito tra i 900 e i 1000 euro dopo aver acquistato del fumo, come testimoniato da un ex collega e amico della vittima. Di qui sarebbe nato l'intento di Cerfoglio di vendicarsi e uccidere, messo in atto nella serata del 3 gennaio scorso, quando si sarebbe nascosto dietro un muretto lungo la pista ciclabile da Domaso a Geralario e avrebbe esploso colpi calibro 22 contro Sandrini. Tre, quelli che lo hanno raggiunto, due superficiali e uno mortale, ha detto in aula l'anatomo patologo Giuseppe Scola, spari che risalgono a poco prima delle 22. La vittima morì dopo il ricovero in ospedale, non poteva essere salvato, ha concluso Scola.